ciao allora oggi parliamo di sopracciglia con questa nuova matita per sopracciglia del brochet questa si chiama stilio sursil precision e brown pencil è waterproof la colorazione che ho io è lo 02 castano e la quantità è uno 0,09 grammi perché è quella automatica e costa 9,95 euro ma è un prezzo scontabile quindi io la prendo almeno con lo sconto del 40 allora intanto ve la mostro che è di qui c'è la matita che di quelle automatiche che però io ho completamente finito quindi comunque vi faccio il video dove vi mostro lo swatch e come si comporta una volta applicata dall'altra parte eccola qui ha uno sfumino quello classico da sopracciglia e lo trovo anche comodo allora il colore è bello e sicuramente adatto le mie sopracciglia essendo una mina molto molto sottile va estratta poca per volta vedete aspettate c'è proprio piccolina si vede anche un pochino dall'applicatore che è ancora più a punta allora va estratta poca per volta se non la mina si rompe e va a delineare le sopracciglia devo dire che soprattutto in estate e quella mia pelle mista dura tutto il giorno cioè è una cosa fantastica quindi la andiamo applicare andiamo a sfumare e resta lì bella ferma sudiamo ci tocchiamo il viso e lei resta fissa lì oltretutto non crea quell'effetto cera quindi le sopracciglia sono morbide non hanno quell'effetto cera che le tendono a erigidire mi piace mi piace davvero molto l'unica cosa che dopo la terza volta che l'ho comprata ho detto ma come mai mi dura così poco e io da brava tester mi sono segnata i giorni che l'ho usata quindi ogni volta che andavo ad applicarla andavo a segnarla e alla fine ho scoperto che una matita mi dura la bellezza di nove giorni quindi va bene la prendo scontata quindi la vado a pagare su 5 euro 95 però cavolo nove giorni peccato perché davvero molto molto valida alla fine ho deciso che questo tipo di matita che sicuramente è validissima la tengo per le occasioni dove so che sto fuori tutto il giorno o quando voglio essere impeccabile o quando so che c'è molto caldo o che posso studare e ho bisogno di stare fuori oppure ho bisogno di un prodotto che tenga perché molto valida sicuramente è una matita che io ho amato tantissimo ma dove giorni sono davvero pochi cioè non ammortizzo il prezzo quindi peccato solo per quello però per il resto davvero è una matita che è stata la mia scoperta dell'estate perché non ne potevo fare a meno ne continuavo a comprare con gli sconti e ora capisco anche perché niente questa sicuramente io ve la stra stra consiglio per qualche occasione quando volete che siano a posto volete che siano sicure che restano a suo posto quando volete essere sicure di avere le sopracciglia sicuramente non per tutti i giorni ecco comunque fatemi sapere se per caso l'avete provata e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi con la bacchetta mettetemi un like iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella così vi avrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video soprattutto l'accesso di beauty low cost e alla prossima ciao